6-14 ottobre 2018 sono queste le date da evidenziare il rosso nella pagina degli appuntamenti importanti della Nautica. Torna dopo gli ottimi risultati delle precedenti edizioni il Salerno Bot Show, una vera festa del mare organizzata dalla Marina D'Arechi. La manifestazione è arrivata a spegnere la sua terza candelina di attività, riscodendo ogni anno un maggior numero di consensi di pubblico e di addetto ai lavori. Salerno Bot Show dunque torna in autunno e lo fa dopo aver registrato nelle due precedenti edizioni circa 40.000 visitatori, oltre 230 espositori e circa 200 imbarcazioni coinvolte. Numeri che ben confermano la centralità dell'evento che ha come primo scopo quello di ridare nuovo slancio alla filiera della Nautica da Riporto, un settore strategico per la crescita dell'economia regionale e nazionale. Tante le novità che caratterizzano l'edizione 2018 del Salone Nautico del Marina D'Arechi, con momenti di dibattito, di approfondimento del settore, ma anche di divertimento e conoscenza di tutte le bellezze e le eccellenze che il territorio offre. Tra le presenze eccellenti anche quelle dell'architetto Santiago Calatrava, che dopo aver realizzato la prima fase con gli interventi retrostanti del nuovo porto turistico di Marina D'Arechi, ormai interamente completato nelle sue opere a mare ed infrastrutturali, è pronto a chiudere anche la seconda fase dei lavori. Siamo ancora qui per crescere, i lavori delle opere a mare sono finiti soltanto l'anno scorso, peraltro siamo cresciuti in una fase in cui la Nautica non ha dato segnali di espansione, quindi siamo riusciti a conquistare una fascia di clientela attraverso la qualità dei nostri servizi che è molto alta. La formula di Marina D'Arechi è servizi altissimi e prezzi competitivi, in modo da dare la possibilità ai nostri appassionati della Nautica di Porto di avere un livello di servizio alto come nei grandi marini italiani e europei, però a condizioni competitive che sono quelle tipiche della Nautica di Porto della nostra regione Campania. Sia il segmento dei mega yacht che quelle delle imbarcazioni normali hanno avuto un tasso di crescita molto importante, anche quest'anno abbiamo registrato una crescita del 20% e quindi siamo soddisfatti, andiamo avanti sulla nostra strada, l'infrazzatura è completa e ci lavoriamo.